Aggiornare la classe medica sulle problematiche che riguardano il Servizio Sanitario Nazionale che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, ma che ormai è sempre più colpito dalla carenza di personale e dalla riduzione di mezzi di soccorso attivi, con di conseguenza ritardi negli interventi di urgenza ed emergenza. È stato questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto questa mattina all'Ordine dei Medici di Trapani. Stamattina abbiamo organizzato con la presenza di autorevoli, relatori, di attori del sistema stesso, del sistema sanitario locale, un corso sull'emergenza, sullo stato dell'arte dell'emergenza nella nostra provincia, nella nostra rete ospedaliera, cercando di catalizzare i percorsi più idonei e per facilitare la collaborazione tra medico e medicina generale del territorio e medici ospedalieri che si occupano appunto di emergenza sanitaria, quindi nei pronto soccorso, nelle altre strutture. C'è un'organizzazione mai e soprattutto la carenza di medici ospedalieri che determina alcune criticità, perché se nell'area di emergenza, nel pronto soccorso degli ospedali della nostra provincia ci sono delle criticità e delle liste di attesa, il cosiddetto fenomeno del boarding per cui il paziente sta in sala di attesa o in corridoio prima di essere ricoverato è legato fondamentalmente a una carenza soprattutto di medici che lavorano nelle strutture. Poi abbiamo visto in questi ultimi tempi i fenomeni di violenza nei confronti dei medici che lavorano appunto negli ospedali, nell'area di emergenza, ma questo è legato fondamentalmente al fatto che il medico è il front office delle istanze, delle esigenze dei pazienti e quindi poi si rivolge, in realtà non è legato alla responsabilità del medico, ma è un problema appunto come dire organizzativo che non è facile da risolvere in questo momento.